e ciao a tutti ragazzoli sono xd train oggi siamo qui in questo nuovo video di shadowcani siamo ritornati sopra la guerra mondiale andiamoci a fare qualche partitozza aspetta prima cosa non voglio questo ma voglio il bel secco con più il mio bel bazooka andiamo a ricercare qualche partitina ragazzi ci vediamo nel gioco ed eccomi ritornato ragazzi abbiamo trovato una partita speriamo che questa partita non andrà male ragazzi è tagliato per trovare più partite cioè perché ci ho messo 30 anni per trovare una partita si che ora su shadowca non si trovano più partite raga ragazzi se ho qualche scritto c'è ragazzi se ho qualche scritto che non riuscire se giocate se qualcuno ciò che è col cazzo tu cosa c'entra questo non lo so buonanotte bello dei mamma esci fuori oh chi hai visto da dietro bastardo no bastardo mi hanno ucciso e sono pure ultimo ragazzi se qualcuno mi conoscemo andate con una richiesta di amicizia io l'accetto ragazzi io sono un secchino classico frustra o no qui buèci buèci buìci 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 buìich buìci 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 mamma mia no, ho chillato, due kill, ragazzi uno con i bazooka e un'altra con il cieco cioè, ragazzi, lui era tutto convinto che mi uccideva invece quello no, bastardo bastardo, da dietro solo da dietro, ragazzi, stanno a giocare intanto stiamo vincendo buonasera ragazzi, mingia, 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 mingia ma dove? ah, la torretta la torretta, ragazzi, devo fare qualche altro shot and shot, bitch 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 and shot, bitch 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 ahia, ahia sono morto sono crepato raga, che ne dite? cambiamo armi? pure no io penso di no, non cerco da bere perchè, raga eh, si, però signorina signorina è meglio cambiare armi, signorina raga, taglio ed eccomi ritornato ragazzi, ora sto spawnando mi sono cambiato armi infatti, eccole perchè, ragazzi, non si potevano fare sempre le stesse armi ok, ora ho sciotto questo ora ho sciotto questo raga, come se non ci fosse un domani ok raga, riconquistiamo la zona che ce l'hanno rubata ok, zona poi controllata contro l'età raga andiamo a conquistare così ora ho molto più meaglio ora così ora ho molto più meaglio ehi, raga, come è? buonasera raga, sto morendo, raga, raga, mi sciottano ragazzi ragazzi, mi sciottano ragazzi 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 mi sono allenato da dietro ragazzi, mi sono allenato un pochino intanto le sue equip facciamo qua le tengo a 0 sentinelle mettiamo la bellezza una tozza fatto ok, fatto andiamo siamo pronti ragazzi penso che questo qua non è stato noioso perché ragazzi l'abbiamo fatto subitissimo ragazzi andiamo a conquistare è nata a caso ho capito? ok chi è? chi è? diciamo che eravamo come dirò come dirò chi è? quanto fa? ok raga lol 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 comunque lol lol ragazzi avevo fatto l'aggiornamento di mobizar quindi non posso durare 15 minuti se li supero mi fa carica il video su youtube buonasera olè chi letto chi letto chi letto ok ragazzi se vinciamo voglio due like due like massimo ragazzi se non ci arrivo devo fare la seconda parte per forza ragazzi questo video ve lo potete godere 1080 fps lo direi di grafica eppure di 30 fps comunque ragazzi non ci fate caso andiamo avanti ho lasciato accogliere 5 mila 5 mila like però faccio tag tag esci con la testa con ti faccio tag eppure sto cazzone vuole venire a sparare di bello appellatezzi mi sono soffidato mondo con la granata non 18 18 l'ho chillato mamma da dove l'ho chillato ma ci sei tu battatone vero ragazzi ragazzi se lo trollo così mamadonna mamma da dove l'ho fatto la 18 non vale sei chitter eh dici la verità sei chitter ok ragazzi ragazzi sono 9 minuti vabbè vabbè yeah ok ho chillato uno headshot bitch bitch ho chillato ho chillato bitch non è no no fail ah questi bug ah questi bug ti prego devo vincere ti prego ok spaz no però ragazzi non dovevo scendere così raga mamma mia raga mamma mi sembra mi sento male abbiamo perso forse abbiamo perso abbiamo perso ragazzi ragazzi questo video si può concludere ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto poi andiamo a comprare qualche bel fucilozzo credone ragazzi credone si voglio accettare sti cazzi sti cazzi me lo picquaggio subito tac tac ok ragazzi con il mio fucilozzo swag e con il mio personaggio brutto e peloso con la barba sexy si può concludere bella ragazzi con la barba la barba non la barba non non è altra risposta per prima seconda è un Grazie a tutti.